È stato inseguito per oltre un chilometro lungo la strada tra San Zeno e San Giuseppe. Il ladro a piedi, i responsabili dei magazzini Nico con la macchina e alla fine lo hanno bloccato e fatto arrestare dalla polizia. Scene da film ieri pomeriggio lungo questa strada. Il malvivente, un romeno di 36 anni, ruba dei capi di abbigliamento firmati, valore 624 euro. Nasconde tutto all'interno della fodera del giubbotto e in bocca l'uscita. Ma il sofisticato sistema di antitaccheggio del negozio non perdona. Salta l'allarme e l'uomo fugge attraverso il parcheggio. La cassiera prontamente si mette all'inseguimento del ladro. Lui abbandona l'area furtiva e continua la sua corsa a piedi. Il direttore e altri due responsabili si mettono in auto. L'abbiamo raggiunto più o meno a un chilometro di distanza verso nord. Nel momento in cui il soggetto si è visto raggiunto dalla macchina, si è fermato. E siamo scesi in tre e lui si è consegnato. Abbiamo telefonato alla polizia, abbiamo ricaricato il soggetto riportato all'interno del punto vendita. Abbiamo aspettato la volante della polizia che sono arrivati dopo 5 minuti. La polizia all'interno della sua macchina ferma nel parcheggio dei magazzini Nico trova altri capi di abbigliamento, questa volta per bambini di marca OVS, ma non solo. Tra tutti gli oggetti sequestrati, quindi gli indumenti, il giubbino, l'antitaccheggio e la calamita di grossa presa per staccare l'antitaccheggio, abbiamo sequestrato anche un Garmin e degli appunti dove lui aveva evidentemente evidenziato dei punti vendita che sono stati battuti sia in passato che potevano essere poi oggetto di furto nel prossimo futuro. Un ladro seriale insomma che è stato assicurato alla giustizia ora dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato.